nessuna bufera potrà essere abbastanza forte per abbatterti se porterai con te queste due fiamme non mi credi vieni staremo allegri insieme è un incontro uno di quelli che ti cambia la vita ricordi me e mario forse no ma è una storia così piccola ma è una storia così grande anzi è una storia così forte che ha cambiato me e contemporaneamente lui nello stesso tempo per sempre cambiati è bastato ascoltarlo affiancarlo ed è lì che ho capito che quell'incontro avrebbe acceso qualcosa e forse l'ha capito anche lui due piccole fiamme accese da quell'incontro due anime si sono accese da lì hanno scelto percorso un mare di chilometri incontrato migliaia di persone salvato centinaia di anime fino ad oggi fino a qui ora ora ti invito a cambiare a dilatare il tuo cuore finché non ti farà male a credere in Gesù finché non sarai felice perché lui solo ci basta per essere felici se vuoi cambiare se ti senti chiamato o ti senti indeciso due fiamme di un solo sacro fuoco devi accendere amare Dio e amare i fratelli trovami dei compagni tuoi conduci meli qui e poi vedrai quante opere belle faremo Dono Ione ci aspetta la tortona dall'1 al 5 luglio 2020 di un altro sacro fuoco Grazie a tutti.